Ah, finalmente è arrivato l'otto marzo, la bella giornata sola e quale occasione migliore per festeggiare le donne, l'infa vitale dell'uomo. E mi rivolgo a chi li vedendo che alzano le mani sulle donne e ricordatevi che voi siete a schifezzare, a schifezzare, a schifezzare l'uomo. Donne, auguri, auguri, auguri.